Artolano, Coniglio, Conte, Convertini, Crimaldi, Fattori, Ferrio, Giunta, Marando, Melis, Monticone, Novaco, Olivieri, Pepe, Polvere, Rettenio, Riontino, Ripani, Robioglio, Scaramuzzino. Sì, ma polvere c'è, sì, quindi nel momento c'è il numero legale, quindi possiamo dare inizio al Consiglio Comunale. La consigliera Bonino mi ha chiesto di fare una comunicazione istituzionale, pertanto le do la parola. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. È una cosa molto rapida, ma ci tenevo a, prima di tutto, salutare tutto il Consiglio e la Giunta e il nostro Sindaco. Ci tenevo a dire che accetto l'incarico di capogruppo, ringrazio il consigliere Franco Fattori, che non è presente per motivi suoi personali, ringrazio dell'operato e ringrazio anche i miei altri tre compagni di gruppo che hanno valutato che io potessi ricoprire questo ruolo. Spero ardentemente, con l'aiuto di tutti, anche non solo del mio gruppo, di riuscire a fare buone cose in questo ruolo. Grazie, grazie mille. Grazie, consigliera. E quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della riunione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2018 dal numero 15 al numero 20. Ci sono richieste di parola? Non mi pare. Pertanto metterei in votazione l'approvazione dei verbali. Aspetta, niente, niente. Peraltro siamo in fase di votazione. È aperta la votazione, quindi. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 18, votanti 17, favorevoli 17, un astenuto. Il Consiglio approva. Allora, al secondo punto all'ordine del giorno, vedo richiesta di parola dalla Consiglia della Polvere, no? No? C'è qualche errore. Ok, allora aspetta. Quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Così come è stato detto già in Commissione bilancio, ripeto a tutto il Consiglio che su questa delibera dobbiamo annotare due errori materiali, uno di data e uno di importo e quindi mi riferisco alla prima pagina della delibera dove si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale numero 56 del 4-4-2017, valetto 4-4-2018, ovviamente. e sempre nella stessa delibera nell'ultima tabella di conteggio, nel totale parte vincolata, invece di 267.763,51, quindi ci sono 10 euro di differenza, peraltro come ho già detto in Commissione, sia il bilancio, sia la relazione dei revisori dei conti che ringrazio per la loro presenza, portano sia le date sia gli importi corretti, quindi a dimostrazione del fatto che quello che ho annotato possiamo considerarlo puro errore materiale. Detto questo, è aperta la discussione sul rendiconto, pertanto chi chiede la parola, chi chiede l'illustrazione o chi chiede altro ha diritto di parola. Se non ci sono, ah ecco c'è Biasiol, se no... Allora, il consigliere Biasiol, prego. Sì, solo per chiedere l'illustrazione, perché c'è bisogno, grazie. Ok, grazie consigliere, quindi il sindaco, assessore al bilancio. Buonasera a tutti, grazie per questa richiesta di illustrazione. Vorrei ringraziare innanzitutto i revisori dei conti, il dottor Porta, il dottor Vicarioli che sono qui presenti, ma anche la dottoressa Bosco che non è presente per motivi personali. Ringrazio anche il segretario che comunque ha la delega al bilancio, come dirigente, chiaramente la dottoressa Magda, che è tutti gli uffici che chiaramente hanno lavorato per questo rendiconto. Invito ai consiglieri, probabilmente lo hanno già fatto, a dare un'occhiata alla relazione del rendiconto di gestione per l'anno 2017. In particolar modo, quando vengono esposti tutte le cifre relative alla gestione della spesa per missione, e più nel dettaglio lo stato di attuazione delle singole missioni. Perché dico questo? Perché è vero che può sembrare complesso, però la relazione è stata compilata in modo molto descrittivo con l'ausilio di grafici, che danno l'idea del tipo di attività che si è svolto nell'anno 2017. Allora, noi oggi appunto ci approntiamo a discutere e a mettere nella votazione di questo Consiglio Comunale il rendiconto di gestione e spero di farlo nel modo più semplice possibile, perché possa essere compreso anche da chi magari con i numeri non ci mastica granché. Nel farlo io vorrei partire da una differenza, o meglio dal confronto rispetto al rendiconto di gestione dell'anno 2016. Noi al 2016 avevamo un avanzo di amministrazione complessivo pluriennale di 16.878.393,16. Quest'anno quest'avanzo di amministrazione sale a 19.222.658.31. La differenza è praticamente di 2.344.265.15. Può sembrare un avanzo importante, tuttavia essendo incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 1.900.000 euro, da quei 2.344.000 dobbiamo decurtare quel 1.900.000 perché chiaramente è obbligatorio inserire all'interno del fondo crediti di dubbia esigibilità che sono tutte le partite inserite in quel capitolo, in particolar modo in considerazione anche del fatto che sono avviati ormai da qualche mese tutta una serie di accertamenti rispetto al recupero di quelle somme. C'è inoltre due voci che sono delle partite vincolate, la prima è quella derivata da leggi e dei principi contabili che praticamente impone l'accantonamento di quelli che sono i premi, i premi di produttività che ammontano 144.671,35 e l'altra partita legata appunto a dei trasferimenti che sono vincolati. In particolar modo questa voce si riferisce agli oneri di urbanizzazione dell'area industriale, PIP3, che l'anno scorso erano, se ve lo ricordate, 833.000 euro. Oggi sono 133.000 proprio perché abbiamo utilizzato una quota importante di quelle risorse. A conti fatti, l'avanzo di amministrazione si riduce a circa 267.000, no anche meno, adesso non ho qui il conto preciso, ma se togliamo 1.900.000 più circa 270.000 euro, ci rendiamo conto che rispetto a quella differenza fra l'avanzo di amministrazione del 2016 e quello del 2017, ci rendiamo conto che appunto quello che non siamo riusciti ad utilizzare è davvero poco. Aggiungerei a dimostrazione del buon lavoro fatto da tutti gli uffici e da tutti i dipendenti comunali con grande impegno è che siamo riusciti a reimputare al 2018 tutta una serie di partite che per ovvie ragioni non siamo riusciti a utilizzare nell'arco del 2017. Ma questa è una pratica che si fa in maniera rutinaria, cioè non sempre a fronte della conclusione dell'iter progettuale o comunque dell'impegno di spesa rispetto all'acquisto di beni materiali, entro il 31 dicembre si riesce poi a realizzare le opere o a fare gli acquisti. Questo comporta che per la prima parte dell'anno 2018 noi andremo a fare investimenti pari a 2.449.157,41. Proprio perché ci sono tutta una serie di voci di cui abbiamo discusso in altre occasioni, in altri consigli comunali l'anno scorso attraverso l'approvazione di variazioni di bilancio, come ricorderete, per appunto investimenti. Oggi siamo nella fase in cui molte di queste opere partiranno, sono partite o stanno per partire. Quindi io concluderei il mio intervento dicendo che l'impegno profuso da parte di tutti, in primis, lo ripeto, da parte di tutti gli uffici comunali, è riuscito a trasformare un trend positivo nelle cifre ma negative, poi dal punto di vista dell'efficienza della macchina comunale, in un quadro che io giudico altamente positivo. Certo, possiamo fare ancora di più. Possiamo fare ancora di più e lo facciamo attraverso l'impegno di ognuno di noi, come Giunta, come Assessori, anche come Consiglieri che sono sempre molto utili a dare indicazioni. e lo facciamo soprattutto attraverso il piano di assunzioni che ha portato all'interno della struttura comunale da quando ci siamo insediati già un buon numero di dipendenti in più. Siamo a 12. Fra poche settimane arriveranno due architetti, due categorie D per l'ufficio tecnico, che daranno manforte ad una struttura che sicuramente è in sofferenza ma si è impegnata molto per realizzare gli obiettivi dell'amministrazione e che potete trovare appunto nella relazione del rendiconto. Da maggio abbiamo fatto un lavoro di ricognizione di quelle che erano le risorse per incrementare ulteriormente il personale. E verosimilmente nell'arco dell'anno riusciremo ad assumere altre quattro figure. E, lavorando d'anticipo, è nostro obiettivo fare una valutazione delle opportunità e delle possibilità di ulteriori assunzioni nell'arco del 2019 ma avviare i bandi di concorso già entro quest'anno affinché si possa avere la disponibilità di risorse umane superiori fin da subito nell'arco dell'anno 2019. Cosa dire? Siamo sempre attenti a gestire il bilancio nel modo migliore. Sicuramente la dottoressa Fanelli è una molto attenta ed è riconosciuto non soltanto all'interno della città ma anche all'esterno essere una persona che è riuscita in questi anni a gestire le partite di bilancio in maniera assolutamente oltre che trasparente, chiaramente, anche in maniera puntuale e il nostro è un bilancio virtuoso ed è una situazione che dalle voci che ho sentito a livello nazionale non è proprio così diffusa o così certa nella nostra nazione. Quindi io ringrazio ancora e sono disponibile per rispondere alle domande e ai quesiti che eventualmente verranno posti questa sera. Grazie. Ok, quindi possiamo aprire la discussione. Come dicevo nella conferenza dei capigruppo il regolamento, lo ricordo a tutti i consiglieri, prevede che i tempi di intervento siano raddoppiati rispetto a quelli normali. Pertanto il primo intervento deve essere contenuto nei 20 minuti, il secondo intervento nei 10 minuti e la dichiarazione di voto in 5 minuti. Quindi apriamo il primo giro di interventi e chi richiede la parola comincia a prenotarsi. Vedo che il sindaco ha soddisfatto tutte le curiosità già in anticipo, sindaco, non vedo richieste di parola. Ecco la prima, il consigliere Biasiol, prego. Grazie, signor Presidente. Appare doveroso illustrare alcune considerazioni sul rendiconto di gestione di esercizio finanziario 2017. Nella determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità il principio applicato alla contabilità finanziaria prevede un'introduzione progressiva a bilancio che troverà completa applicazione nella misura del 100% dell'importo a decorrere dal 2021. I crediti di dubbia esigibilità sono, per il pubblico, le multe, la tari, la mensa scolastica, eccetera. I comuni, salvo modifiche normative, saranno costretti ad accantonare cifre sempre più alte fino a garantire l'intero importo dei crediti di dubbia esigibilità. Crediti che potranno essere comunque recuperati man mano che i cittadini salderanno i loro debiti con l'amministrazione. Appare evidente che il legislatore spinga per il recupero dei crediti da parte delle amministrazioni comunali per impedire che quelli eventualmente non riscossi e inseriti a bilancio vadano in disavanzo. Questa imposizione normativa ha però delle conseguenze. C'è il rischio che le amministrazioni locali e la nostra in particolare non siano completamente incentivate a riscuotere i crediti poiché l'intero importo già a bilancio è comunque garanzia di equilibrio contabile. Il carico sanzionatorio e la riscossione dei crediti non è mai stato un punto di forza delle amministrazioni di Nichelino. A titolo di esempio citiamo la relazione dei revisori dei conti dove a pagina 19 viene illustrata l'evoluzione negli ultimi tre anni degli importi relativi alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e delle relative riscossioni. Dal 2016 al 2017 c'è stata una sensibile diminuzione da 1.450.000 a 1.150.000 con una riscossione effettiva che va dai 710 erotti mila euro del 2016 ai 429.891 del 2017. Una diminuzione anche della percentuale di riscossione che era del 49% e arriva al 37,38% del 2017 che è una diminuzione che ci lascia anche un po' perplessi perché anche in considerazione del fatto che Nichelino ha appaltato esternamente il servizio di recupero crediti quindi dovrebbe funzionare. Ricordiamo anche l'entità che c'è l'entità della morosità colpevole in relazione alle rette per la mensa scolastica anche questa raggiungeva cifre ragguardevoli. Appare evidente che la politica del chiudiamo un occhio con la relativa timidezza nella pretesa del rispetto delle regole crea un doppio danno una percezione che i cittadini hanno sulla serietà e autorevolezza dell'amministrazione che li rappresenta e uno sui conti. Ogni euro non riscosso e che comunque diciamo è già bilancio quindi l'equilibrio non viene turbato dicevo ogni euro non riscosso crea i presupposti per una nuova buca nelle strade. In effetti in commissione bilancio è stato specificato che l'avanzo reale che va dedotto per differenza tra l'avanzo totale e il fondo per i crediti di doppia esigibilità ammonterebbe a quanto dichiarato in commissione a 472 mila euro. Comunque sono troppi. Avanziamo sempre cifre troppo alte. Nonostante l'accredito di quei 130 mila euro che il sindaco ci spiegava da parte dei viali per il pagamento degli oneri di urbanizzazione del bounce che sono arrivati a fine anno proprio senza possibilità di essere spesi. Ci si poteva mettere d'accordo prima la data di erogazione insomma si poteva anche essere concordata meglio tra le rispettive amministrazioni. Già l'anno scorso la vostra amministrazione ha evidenziato una carente capacità di programmazione di spesa che ha portato anche in quell'occasione ad avere un avanzo troppo alto. È un fenomeno che sarà destinato inesorabilmente a ripetersi se non saranno programmati capitoli di spesa volti a impedire o quantomeno ridurre l'avanzo. E di spese Michelino ha un gran bisogno. Basti pensare allo stato generale di degrado dei manti stradali delle vie cittadine un impegno di spesa che abbiamo recentemente avete ma comunque abbiamo come amministrazione comunale ha aumentato con una recente variazione a 150.000 euro all'anno quando invece è chiaro che non basterebbe una cifra 10 volte superiore. Il rifacimento del manto stradale delle arterie cittadine di via Torino e di via 25 Aprile entrambe pianificate da amministrazioni precedenti e appunto dopo questo rifacimento non vi è traccia in alcun documento programmatico per i piani di riasfaltatura di altre zone della città. Ci limitiamo a riempire buche a volte non sempre. Rileviamo come anche lavori già eseguiti come la verniciatura di alcuni attraversamenti pedonali si deteriorino dopo poco tempo evidenziando la scarsa qualità favorita probabilmente dall'impossibilità di controllarne efficacemente l'esecuzione. Apprendiamo con favore del bando per l'assunzione dei due nuovi laureati da impiegare per rinforzare l'ufficio tecnico. Speriamo che le procedure per il loro inserimento operativo non siano troppo lunghe visto che l'amministrazione attende un impegno gravoso dovuto all'arrivo di 3 milioni e 600 mila euro di contributi ministeriali destinati alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Auspichiamo un impegno anche per l'assunzione di nuovi agenti di polizia municipale che a Nichelino sono notoriamente molto sottorganico. Queste considerazioni sebbene apparentemente fuori tema sono coerenti con l'ordine del giorno addirittura di strettissima attualità perché dal rediconto 2017 che oggi è in discussione sono state messe le basi per il verificarsi degli avvenimenti recenti. La generalizzata sensazione di insicurezza che la vostra amministrazione insiste contrariamente ad ogni evidenza a voler definire solo percepita è il risultato della vostra mancata capacità di controllo del territorio della scarsa attenzione al tema del decoro urbano della mancanza di autorevolezza nell'imposizione del rispetto dei regolamenti e delle ordinanze dalla timidezza dell'azione sanzionatoria. Le recenti misure straordinarie che la vostra amministrazione si affanna a realizzare sono la diretta e inefficace conseguenza di decisioni prive di prospettiva prese in passato. Nichelino ha bisogno di un'amministrazione lungimirante che sappia programmare meglio le proprie spese e che investa risorse oggi per una città più sicura e pulita domani. Grazie. Grazie consigliere Biasiol. Al momento non ho altre richieste di intervento. Grazie. Grazie. Chiede la parola il consigliere Fattori prego Sì buona serata a tutti scusate il ritardo ma noi non è che ci siano le cifre sono come dire aride non è che uno si può mettere a discutere di cifre possiamo discutere di quello che c'è alle spalle delle cifre insomma e 19 milioni di avanzo all'amministrazione voglio dire non è che ci possiamo vantare che non è aumentata o che è aumentata poco sono sempre 19 milioni che non sono stati spesi e quindi pur comprendendo e pur riconoscendo comunque che la macchina comunale fa tutto quello che è possibile fare non si può non poi prendere atto che le strade sono quelle che sono che la situazione sostanzialmente della città è sotto gli occhi di tutti e dopo di che fortunatamente insomma in questo consiglio scusa fattori devo toglierti un momento la parola per ridartela per un problema tecnico un attimo solo vediamo però vedo che c'è qualcosa sì non è un problema risolvibile allora almeno nel momento non mi pare siamo nella situazione della panoramica siamo già in fase di accordo con i 5 stelle me lo avete già messo lì mi avete già messo con i 5 stelle siamo già in fase di accordo io ve lo dico che sono contrario abbiamo concordato con i 5 stelle e il partito democratico nella conferenza dei capigruppo che non parliamo di governo no no stavo facendo la battuta vediamo se riusciamo comunque niente fattori vuol dire che la tua immagine nel momento non apparirà nella registrazione ma le parole restano prego mi dispiace per l'immagine perché era qualcosa di pregnante vabbè comunque dicevo che insomma 19 milioni di avanza dell'amministrazione a fronte di una città che avrebbe bisogno di spendere anche quello che ha Moncaglieri mi sembra veramente che poi non si possa essere contenti perché non abbiamo aumentato di molto l'avanza dell'amministrazione che dobbiamo dire sicuramente oggi riuscire a gestire i fondi disponibili è sempre più complicato perché a fronte di promesse che vengono fatti per cercare snellire sburocratizzare mettere i soldi aspetta che sembra che stia tornando tutto in ordine prego la parola ce l'hai e forse anche l'immagine ho detto qualcosa di troppo ho detto qualcosa di troppo vai vai che va bene comunque insomma diciamo che non possiamo che prendere atto di una situazione che anche se cerchiamo di decantare come positiva migliorativa rispetto al passato invece credo che sia crediamo che sia sulla strada del passato strada che va assolutamente invertita e bisogna trovare il modo di spendere i soldi che vengono messi a disposizione poi è chiaro che i soldi arrivano sempre nel momento sbagliato arrivano a fine anno non si possono spendere c'è tutto quello che volete però risultato alla fine la gente noi possiamo andargli a spiegare tutto però c'è la fortuna che alle sette in questo consiglio comunale mancano anche le sedie oltre che alle persone quindi la gente non sa neanche cosa succede i giornali non scrivono un tubo e quindi va bene madama la marchesa va tutto bene così però per dire se ci fosse attenzione a quello che succede in questo consiglio e cosa succede in questa città secondo me qualche preoccupazione in più me la porrei anche in particolare come prospettive future di questa amministrazione quindi insomma noi non possiamo essere soddisfatti del fatto che l'avanza dell'amministrazione è aumentato pochino insomma in buona sostanza non ci sembra che ci si possa inorgogliare grazie grazie fattori non vedo altre richieste di intervento pertanto se il sindaco vuol cominciare a dare sabino sabino prego novaco novaco prego io penso che quando si è chiamati a dare un giudizio come in questo caso su un bilancio consultivo al di là delle cifre al di là delle tabelle va sempre comunque dato un giudizio politico sull'attività amministrativa dell'anno precedente anche perché poi si rischia anche di fare degli errori noi il consigliere fattori diceva che l'avanzo di amministrazione è esageratamente alto 19 milioni e qualcosa in più ma già l'anno scorso avevamo dato un giudizio politico sul perché si è raggiunti a questo avanzo di amministrazione caro fattori ci sono delle responsabilità enormi degli anni tu e anche non Renzi Renzi qua non c'entra niente allora anche tu quando avete dato con una mozione di sfiducia nel 2015 la sfiducia all'allora amministrazione ci sono stati otto mesi circa di amministrazione di commissariamento naturalmente per legge per legge non poteva uscire al di fuori di quanto era l'attività ordinaria quindi ecco perché si è giunti anche a questa cifra per quanto riguarda poi il 2017 io penso che il giudizio politico che bisogna dare perché occorre sempre partire da questo tra l'altro proprio perché dico questo io mi auguro che quanto prima l'Italia sia dotata di un governo perché se l'Italia andrà avanti con questo balletto piazza della signoria la bicicletta e tu e io e noi e voi probabilmente il prossimo anno non riusciremo neanche a farlo il bilancio quindi è su queste cose è su questi è entrare all'interno di queste dinamiche che occorre da parte nostra dare 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 un giudizio per quanto poi diceva il consigliere Biasiol in parte è anche vero c'è dei ritardi c'è qualche anomalia dovuto proprio anche al fatto che non sempre è a disposizione i mezzi per poter controllare tutto il territorio così come tutti quanti noi ci auspichiamo e vorremmo però bisogna tener conto che i servizi pubblici sono stati mantenuti ad un livello non dico eccesso ma ad un livello compatibile con le esigenze di una città alla quale la crisi economica ha dato da anni dato una mannaia vedi licenziamenti di lavoratori vedi cassi integrazione e si ripercuote anche sull'esigibilità delle parti che sono in morosità e quello di aver mantenuto comunque gli asili nido le scuole materne la raccolta dell'immondizia tutte queste cose qui con un'efficienza alla quale poche città potrebbero forse eventualmente eventualmente vantarsi di quanto loro sono riusciti a mantenere la funzione del servizio pubblico la scuola i trasporti le attività di cultura gli interventi nei confronti dei giovani il mantenimento di tutte le associazioni le quali danno un loro contributo di partecipazione e di democrazia a far sì che la città si evolva sempre di più quindi il giudizio non può non essere politico dell'attività del bilancio del 2017 per tanto per questo quindi ci riserviamo anche eventualmente di fare la dichiarazione di voto però io lo preannuncio per quanto ci riguarda il nostro gruppo voterà incondizionatamente a favore e questo è secondo me il filone sul quale dovrebbe è evidente che poi magari si va alla ricerca là c'è la buca purtroppo non è solo Michelino purtroppo purtroppo è un po' esteso in tutto su tutto il territorio il territorio nazionale questa disfunzione tra l'altro io da altre volte l'ho detto ci sono il governo il governo Gentiloni al quale non so se Renzi fa ancora parte se comanda ancora lui o meno il governo il governo Gentiloni in questi giorni dovrà ulteriormente dare alle concessionarie delle autostrade ulteriori proroghe il perché per esempio da parte degli enti locali e anche dal nostro consiglio comunale non parte non parte una iniziativa per far sì che una parte di quei soldi che questi signori che automaticamente aumentano le tariffe dei pedaggi autostradali non vengono investiti non gli vengono sottratti per investirli per la sistemazione per la sistemazione delle strade le quali soprattutto quelle adiacenti agli ingressi e alle uscite dell'autostrade agli ingressi e alle uscite dell'autostrade sono quelle che maggiormente vengono penalizzate ho letto da qualche parte che forse sul ponte sul ponte Cavalcavia che c'è in via de Boucher ecco carico di chi dell'area metropolitana cioè non era chiaro però da parte di chi dovesse intervenire perché non costringere le concessionari delle autostrade a far sì che devolvano una parte dei loro introiti che hanno che hanno bilanci enormi i quali poi tutte le volte aumentano le autostrade non devolvano una percentuale per la sistemazione per la sistemazione delle strade giudizio politico sul consuntivo del 2017 quale ci vede pienamente favorevole voteremo convintamente sì grazie consigliere Novaco se non ci sono altri interventi sì intervento del consigliere Grimaldi prego nel frattempo se c'è qualcuno che deve prenotarsi lo faccia buonasera 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 a tutto il consiglio grazie per la parola presidente allora mi sono segnato alcuni dati brevi per rispondere per punti soprattutto innanzitutto mi accodo anche io nel ringraziare il lavoro svolto dagli uffici dall'ufficio contabilità nella responsabile Maddalena Fanelli dalla quale tra l'altro ho avuto piacere di fare uno stage anni fa durante il periodo universitario al di là di tutto comunque abbiamo avuto l'anno scorso a consuntivo abbiamo approvato un importo una differenza dal 2015 al 2016 di circa 5,6 milioni quest'anno sono stati meno il sindaco ha spiegato prima la differenza dovuta al fondo per i crediti di dubbi e esegibilità rimane un importo intorno di circa 300 mila euro questo secondo me è un dato politico è una sostanziale inversione di tendenza è dovuto a una maggiore programmazione è dovuto a un miglior in qualche maniera ordinamento dei lavori all'interno della macchina comunale dovuto al fatto che c'è una linea politica data da una maggioranza e da un sindaco non voglio ricollegarmi tanto ai discorsi legati al commissariamento che ha già toccato un po' Sabino Novacco precedente a me semplicemente voglio solo ribadire l'inversione di tendenza che abbiamo attuato come amministrazione della quale anche l'opposizione secondo me deve essere soddisfatta e come diceva anche il sindaco perché c'è molto da fare c'è molto da lavorare e si può sempre migliorare però credo che questa stracciata sia la strada migliore e ovviamente mi accodo anche io alla dichiarazione di voto voteremo ampiamente favorevoli grazie consigliere Crimaldi ok nel momento non ho altre richieste di parola pertanto se il sindaco vuole replicare prego dunque io nella mia esposizione non ho sicuramente detto che va tutto bene e che viviamo nel paradiso terrestre delle difficoltà ci sono contesto la diciamo il rilievo di una mancanza di programmazione soprattutto di visione e che a volte si possono avere anche delle visioni e una pianificazione e una programmazione che sono diverse probabilmente il Movimento 5 Stelle ha la risposta pronta o comunque la soluzione di tutti i mali con uno schiocchio di dita probabilmente quando si arriva ad amministrare si si rende conto che delle scelte e delle decisioni anche rapide bisogna prenderle e non sono mai delle decisioni prese così senza che ci sia un pensiero dietro poi chiaramente ognuno ha la propria visione ed è giusto ed è legittimo che sia così quindi siccome alludeva probabilmente alla questione ordinanze sicuramente al boschetto dove avete costruito una campagna mediatica prego una campagna mediatica prima sì 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 certo grazie prima contro quando abbiamo preso una decisione poi contro quando abbiamo preso diciamo l'abbiamo come dire revocata ma non così non perché mi sono svegliato al mattino e ho detto ma sì oggi revochiamo l'ordinanza ma semplicemente perché abbiamo verificato valutato che probabilmente dovevamo cercare di capire qual era la risposta della popolazione rispetto a quello che era accaduto il giorno di Pasquetta e come avrebbe reagito a me sembra che nonostante le polemiche fatte nel periodo dell'ordinanza dove qualcuno si è sentito tradito tre volte questo tre volte mi ha ricordato sai il gallo che canta tre volte no? cioè ci sta che nella logica della contrapposizione uno porti avanti le proprie battaglie politiche ma io difendo la scelta di questa amministrazione la scelta mia personale di fare quell'ordinanza perché dopo quello che era accaduto era necessario dare una risposta forte dico anche una cosa che non è stata una decisione una scelta presa a cuor leggero e ritengo che quella roba lì lo dico con tutta onestà rappresenta una sconfitta ma non mia non mia una sconfitta collettiva allora viva Dio non è che si può incolpare il sindaco o la giunta di essere la causa di tutti i mali andava presa una decisione e quella quella situazione va sicuramente monitorata nel tempo ad oggi io sono molto soddisfatto che alla revoca dell'ordinanza grazie all'impegno di questa amministrazione che ha prodotto una serie di come dire di cose abbiamo pubblicato il bando per l'adesione alle guardie volontarie ambientali abbiamo elaborato e ringrazio gli assessori per averci elaborato un volantino che è una sorta di vatemecum poi può anche essere criticabile ma c'era già regolamento sì ma intanto è un elemento di informazione in più e di educazione in più rispetto a quel tipo di problema poi non è che abbiamo recuperato un esercito ma ci vuole del tempo e seguiremo con attenzione il monitoraggio di quella di quella vicenda ieri alla revoca dell'ordinanza il boschetto è stato vissuto come dire come un normale giorno di sole di una qualsiasi primavera e ieri sera il boschetto era assolutamente pulito mi spiace che qualcuno di voi magari si sarebbe aspettato qualcosa di diverso poi magari non dura se non facciamo qualcosa ma noi siamo sul pezzo e non è che ci inventiamo le cose così ma abbiamo pianificato i vari interventi del tempo più in generale però chi dice che in realtà poi non c'è stata efficienza da parte della struttura comunale dell'amministrazione io credo che faccia un grande errore intanto gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto hanno evidenziato la differenza tra l'avanzo di amministrazione del 2000 del rendiconto insomma del 2016 rispetto a 2015 che era di circa 5 milioni e 6 rispetto a quello che andiamo a approvare questa sera dove comunque una quota era obbligatoriamente da inserire nel fondo crediti di dubbia esigibilità e due partite di circa dicevo 270 mila euro sono vincolati e di fatto non un vero e proprio avanzo che sottende poi a quelli che sono i vincoli di utilizzo ma sono 270 mila euro che noi dobbiamo utilizzare e che utilizzeremo nella sua totalità io vorrei ricordare sommariamente che l'abbattimento della cascina Sanquirico era un progetto e un obiettivo che le amministrazioni precedenti avevano che la passarella delle Alpi per quanto è un incidente del se non ricordo male del dicembre del 2015 non era così scontato che si riuscisse a portare in porto che i lavori di ampliamento della biblioteca creando un meccanismo anche come dire di triangolazione rispetto a quello che era l'esigenza di recuperare l'ex piscina e garantire il contributo del San Paolo è un qualche cosa che come dire non lo si vede ma che è rispettato nel cronoprogramma che ci siamo dati che gli sfondellamenti nelle scuole per garantire la sicurezza è un lavoro che sta andando avanti che la messa in sicurezza degli sfondellamenti a cominciare dalla Rodari e oggi alla Collodi e si sta andando avanti anche in diciamo in quel in quel settore lo si sta facendo voi siete genitori di bambini che frequentano le nostre scuole quindi ben sanno i lavori che si stanno facendo che beh anche nonni che la manutenzione delle alberate 200.000 euro è qualche cosa che si vede poi magari uno potrà anche contestare che la potatura non è fatta in maniera perfetta ragazzi io non non sono un giardiniere quindi mi diventa complicato far tutto che 674.000 euro degli interventi di manutenzione di Sottivernea sono una realtà questo è un avanzo che era lì da anni che quei 40.000 euro per sistemare la rotonda del colombetto è qualcosa che partirà fra qualche settimana che l'ampliamento del cimitero finalmente dopo anni sta per vedere la luce è realtà che il secondo lotto delle scuole finanziato con il bando delle periferie sta seguendo il suo iter procedulare è cosa visibile che i 4.300.000 se non ricordo male però vi chiedo scusa se non ricordo tutte le cifre è di un bando a cui i nostri uffici hanno partecipato alla fine del 2016 per la messa in sicurezza delle scuole è realtà poi quello è soltanto un bando vinto per il momento servirà chiaramente la firma dei come si chiamano i decreti attuativi del futuro governo viva Dio e fatelo sto governo PD e 5 Stelle così visto che lo fate come accordo ci firmate i decreti attuativi e noi questi 4 milioni errotti riusciamo anche a spenderli per le scuole quindi sono lì l'abbiamo vinto mancano quella roba i manca soltanto i decreti attuativi scusate vi prometto che vado presto dall'oculista perché mi hanno fatto una lista molto piccola però ecco il tema della manutenzione delle strade avete ragione stiamo impazzendo stiamo letteralmente impazzendo e la pazienza sta per terminare anche noi conosciamo conosciamo bene la situazione dei lavori di manutenzione gestita alla SMAT conosciamo bene ma guardate crediate che non stiamo con le mani in mano abbiamo fatto riunioni abbiamo fatto solleciti le mail telefonate io sento tutti i giorni il direttore dei lavori l'amministratore delegato di SMAT è un problema che stiamo facendo fatica a risolvere probabilmente oltre delle dichiarazioni sulla stampa stiamo valutando anche se andare alla procura della repubblica perché non si può andare avanti così non è però come dire un cantiere dove posso prendere il mio dirigente tirargli l'orecchia e dire che cosa stai facendo i nostri uffici sollecitano anche per parte tecnica i cavalcavia che sono in una situazione drammatica vorrei ricordare uno è di competenza di attiva l'altro è di competenza di città metropolitana che tra l'altro è governata da voi e io ho avuto l'anno scorso una riunione con il vostro consigliere delegato per i lavori pubblici che mi diceva ti prendi sta strada sì io me la prendo la strada prima me la metti a posto va bene ci sono state un giro di mail adesso appena ci mettono a posto la strada poi sarà la nostra responsabilità il cavalcavia di via 25 aprile è della città metropolitana cioè mettetevelo in testa le le buche ecco guardate che noi abbiamo speso abbiamo speso risorse per la manutenzione delle strade perché tra l'altro dividiamo tra quella che è la manutenzione ordinaria e quella che è la manutenzione straordinaria la manutenzione ordinaria ha garantito l'anno scorso una serie di interventi di asfaltatura sulle strade oggi stiamo approntando i progetti per la manutenzione che parte in questi che partirà in questi giorni perché è vero che ci sono delle buche però quando devi fare come dire degli interventi tu devi pianificare fare degli interventi immediati per cercare di evitare che uno si sfasci il cerchione mettendo anche magari un po' di asfalto a tappo poi fai la pianificazione per fare la manutenzione più complessiva io vi anticipo però che la manutenzione complessiva di tutta la città in un anno non la si riesce a fare sia per una questione di natura economica e finanziaria sia anche perché oggettivamente non come dire non c'è la struttura per poterlo fare questo è quindi ci sarà una pianificazione dove si andrà a fare degli interventi mirati per mettere in sicurezza alcune strade un altro tipo di intervento sarà quello magari di rifare delle strade che sono giudicate dai tecnici non dalla politica dai tecnici in condizioni peggiori e quindi andremo avanti così ripeto non riusciremo a far tutto perché non siamo dei mandrake quello che però posso garantire è che noi ci alziamo al mattino e anche se ognuno di noi poi ha delle proprie attività io due giorni alla settimana faccio ambulatorio ma tutto il resto della mia vita lo passo in comune e spesso quando lavoro devo rispondere al telefono per gestire alcune situazioni quindi l'impegno ce lo mettiamo tutto poi ripeto abbiamo delle nostre idee una nostra visione di sviluppo della città un nostro approccio di affrontare quelli che sono i problemi però a me dispiace una cosa mi dispiace una cosa che quando si descrive la città di Nichelino come la città più brutta del mondo guardate che oltre a fare un danno d'immagine terribile andate contro a quelli che sono invece le opinioni più diffuse dei cittadini di Nichelino stesso lo diceva prima Novaco siamo una realtà non per merito nostro storicamente che offre dei servizi all'avanguardia alle persone siamo una città che nonostante a volte le pressioni il costo molto elevato questi servizi vogliamo continuare a mantenerli siamo una città che si è impegnata a mantenere i costi dei servizi alle persone invariati da anni siamo l'amministrazione questa volta noi sì che dopo anni ha ridotto la tariffa rifiuti per due anni consecutivi in particolar modo con un'attenzione nei confronti degli utenti non diciamo delle utenze non domestiche adesso mi si dirà sì i centri commerciali va bene tutto intanto oltre al netto dei centri commerciali una riduzione sul piano finanziario c'è stato allora ognuno potrà avere la propria visione il tema della sicurezza che è reale il tema della sicurezza è un tema reale concreto al quale stiamo dando delle risposte ci sono degli episodi che si sono manifestati nel corso degli anni in questa fase un po' più concentrati ma episodi che sono caratteristici c'è la fase di qualche settimana dove rubano le gomme c'è la fase di qualche settimana dove fanno gli atti vandalici c'è la fase che è durata due settimane speriamo che sia finita perché abbiamo messo in atto tutta una serie di provvedimenti per contenerne gli episodi dei furti nelle scuole allora questo è una realtà questa è una realtà però come ho già detto in altre circostanze io inviterei ogni tanto a farvi un viaggio io ho un carissimo amico che ama viaggiare che vi può dare anche degli ottimi consigli su dove andare a spendere poco e star bene chiedete consiglio fatevi un viaggio ogni tanto di una settimana dieci giorni e vi renderete conto che l'Italia in generale e Nichelino sono delle città dove si vive bene e dove il tema della sicurezza va affrontato con il giusto piglio è chiaro è chiaro che io devo fare attenzione ad aumentare la sicurezza che abbiamo agito perché le pattuglie dei carabinieri passassero da una a tre che due di queste pattuglie fossero in borghese ma non pensiate che si possa militarizzare una città non pensiate che si possa fare una cosa del genere perché non è possibile il tema della sicurezza va affrontato a mio giudizio in modo più complessivo a 360 gradi siamo una città dove le associazioni organizzano ogni sacrosanto giorno un'iniziativa che consente alla gente di uscire per strada frequentare il teatro frequentare le associazioni in questo modo si garantisce la sicurezza e oggi oggi è pur vero ripeto che c'è il rischio del furto in appartamento nelle scuole guarda caso poi tra l'altro nelle scuole a cui abbiamo dato centinaia di migliaia di euro in questi in questi due anni e hanno acquistato dei materiali guarda caso quindi sono diventati appetibili cosa che non era mai successa che entrassero nelle scuole questo è questo è quindi ripeto pur conscio di quelle che sono le problematiche che affliggono la nostra comunità io sono assolutamente con la coscienza a posto so anche che non riuscirò a risolvere io noi perché poi parlo singolare ma in realtà siamo una squadra io chiedo scusa alla maggioranza abbiamo sempre detto che il singolare non andava bene però mi attaccano talmente in modo diretto che istintivamente mi viene di difendermi in questo modo noi ce la stiamo mettendo tutta ce la stiamo mettendo tutta e posso dire che secondo me la percezione dei cittadini della stragrande maggioranza dei cittadini non di tutti è una percezione positiva perché quando noi riceviamo i cittadini nei quartieri e io ricevo combinazione una quota di cittadini che mi dicono sì c'è l'abbandono di rifiuto ha ragione c'è l'abbandono di rifiuto lì da dieci giorni vero dobbiamo migliorare il sistema per carità combinazione però ricevi due cittadini su dieci che abitano a Niccherino da due o tre anni e ti dicono ma guardi sì c'è questo piccolo problema però io sono contento di star qua è incredibile prima abitavo a Torino prima abitavo a Rivoli Rivoli eh non un altro un altro dice ah vengo da Milano sono venuto ad abitare qui a Niccherino nella zona nella zona Castello sono contento vivono in un quartiere pieno di verde ci sono problemi sì il parcheggio ma vive addio il parcheggio rispetto ai servizi che offrite io a Milano in piazza Spadolini no no perché sei no in piazza Spadolini dove abitavo Milano io non avevo mica tutti questi servizi ma voi fate il teatro ma si può uscire c'è l'associazione c'è l'iniziativa mi posso informare certo guardi non so la percezione questa cosa il parcheggio giusto però io sono assolutamente felice anzi la ringrazio che stiamo parlando allora siccome questo non sono due episodi ma nell'arco della mia vita della mia vita tutte le persone poi faccio anche un lavoro che mi ha consentito di avere una grande fortuna di incontrare persone che si trasferivano a Niccherino e tra quelle che diventavano miei pazienti mi dicevano no ma guardi che è incredibile ma ci arriva il giornalino ci dà le informazioni ci sono un sacco allora ragazzi continuate a fare così fate i video con l'intervallo che dimostrano una città disastrata fate così perché secondo me ci fate un grandissimo favore grazie grazie sindaco allora possiamo aprire il secondo giro di interventi tenendo conto che bisogna stare nei dieci minuti consigliere Biasol prego grazie signor presidente allora partiamo dal fondo allora qualche anno fa ho comprato casa a Nichelino era la mia prima casa e ci sono andato la mia prima casa perché poi l'ho cambiata comunque quando ho deciso di venire a vivere a Nichelino l'ho fatto perché sapevo che a Nichelino si vive bene ah non ti ho tolto la parola nessuno scusa un attimo solo Biasol perché se no il tuo intervento si somma ai venti oltre minuti che ha parlato il sindaco ecco ti ridò la parola così si dovrebbe azzerare grazie e quindi ribadisco nessuno ha mai sostenuto che Nichelino si vive male o comunque che in altri posti limitrofi si vive meglio e noi siamo un'isola infelice purtroppo la situazione di insicurezza e di degrado urbano e di mancanza di manutenzione è una situazione generalizzata generalizzata anche agli altri comuni quindi se io non fossi contento di Nichelino e volessi andare a vivere a Moncalieri piuttosto che a Rivoli Orbassano non cambierebbe praticamente nulla della qualità della vita che faccio a Nichelino e ultimamente ho cambiato casa ho di nuovo comprato un'altra casa qui a Nichelino perché sono convinto di voler vivere a Nichelino quindi non sono pazzo ok questo per ribadire un concetto la denuncia delle situazioni di degrado urbano non sono indirizzate volte a far fare una figuraccia a questa città ma sono indirizzate a sensibilizzare la Giunta il Consiglio Comunale i cittadini sul fatto che il problema esiste quindi nasconderlo minimizzarlo negarlo non lo risolve il degrado urbano c'è e dobbiamo in qualche modo cercare di porvi rimedio visioni ognuno ha le sue ricette le sue visioni i suoi progetti e per ritornare un po' anche dentro al bilancio dentro il bilancio io non ci leggo la presenza di strumenti che ritengo idonei a contrastare quei fenomeni perciò non è tanto per quello che c'è dentro al bilancio che noi non siamo d'accordo ma per quello che non c'è per quello che manca Novaco parlava degli asili nido e leggo qui dal rendiconto del revisore dei conti che su 200.000 euro di proventi e su 1.090.000 euro di costi il saldo è quindi negativo 890.000 euro che ci mette il comune ma bene ce li deve mettere è una cosa buona quindi noi non possiamo contestare questa cosa che c'è noi contestiamo eventualmente quello che manca ossia un'attenzione al decoro urbano un'attenzione alla sicurezza un'attenzione alla gestione del vandalismo questo nel bilancio che andiamo presumibilmente ad approvare non c'è e quindi non possiamo essere d'accordo con questa cosa qua sui cavalcavia abbiamo fatto un'interrogazione Novaco noi lo sappiamo bene che uno è dell'attiva e uno è della città metro e sappiamo anche perché è uscito un articolo di giornale che presto città metro lo rifarà quello di sua competenza quindi via Gozzano via Gozzano vengono dei cittadini che hanno votato per voi a pregarci di fare qualcosa a noi come se noi potessimo cioè più che riportarvi la voce non ne possono più non ne possono più i cittadini di quella zona non ne possono più e sono i cittadini che hanno votato per voi quando avremo fatto l'accordo col PD poi vedremo allora il piano il piano triennale delle opere di cui questo bilancio è figlio non ci aveva soddisfatto e quindi a Monte non per quello che c'è bene il cimitero bene lo spostamento della biblioteca che abbiamo fatto anche una mozione che poi è passata all'unanimità qui per lo spostamento della biblioteca quindi volete che non siamo d'accordo con questa cosa qua siamo d'accordo siamo felici siamo contenti quindi alla fine è per quello che manca non per quello che c'è Poschetto allora la posizione di questo gruppo consigliare del movimento di Nichelino è stata chiara fin dall'inizio noi abbiamo ribadito che l'ordinanza di divieto era un errore era un errore per due motivi uno perché costringeva l'amministrazione a dei controlli che non è in grado di fare non è in grado di sostenere di far applicare quel divieto e la seconda è che non risolve il problema della mancanza di civiltà generale che si risolve in altri modi con la presenza col controllo con l'educazione quando si parla di mancanza di autorevolezza della maggioranza della giunta del sindaco in particolare si fa riferimento proprio alle ordinanze che emette l'ordinanza del boschetto emessa ritirata nel frattempo parzialmente trasgredita l'ordinanza sulla neve oggetto di una nostra interrogazione i frontisti che sarebbero costretti a togliere la neve dai marciapiedi davanti a casa loro illegittima fatto notare detto ma tanto non li sanzioniamo mai allora si fa non li sanzioneremo mai allora si fa un'ordinanza che non ha intenzione di farla rispettare il blocco delle auto il blocco delle auto in inverno i diesel euro 4 euro 3 a una nostra interrogazione a un quesito l'assessore ha la domanda ma quante sanzioni avete fatto a seguito dei controlli nei giorni di divieto la risposta è stata zero non avete fatto una sanzione per veicoli che circolavano fuori dall'ordinanza del blocco della restrizione della circolazione l'assessore ha citato piazza spadolini piazza spadolini c'è un'altra ordinanza e sembrerebbe da quello che mi dicono che non sia molto rispettata ora aver fatto l'ordinanza va bene ma poi bisogna anche farla rispettare altrimenti è aria fritta è carta straccia sindaco lei prima ha detto una cosa il sindaco non è la causa di tutti i mali vero assolutamente vero ma si giudicano i provvedimenti che prende per rimediare a quei mali e a mio giudizio a nostro giudizio i provvedimenti che la sua maggioranza ha preso sui problemi segnalati che non sono colpa sua non ci soddisfano come sempre noi puntiamo il dito su quello che manca manca il terzo lotto mancano tante altre cose che c'erano non ci sono più non ci sono i soldi eppure li avanziamo ne avanziamo pochi ne avanziamo meno dell'anno scorso però li avanziamo vorrei soltanto aggiungere una piccola così finire con una battuta che poi non è tanto battuta ecco io non vorrei che la pianificazione dei lavori sul rifacimento delle strade avvenisse come consuetudine storica a ridosso delle elezioni comunali e ve l'ho data ve l'ho suggerita mi pento quindi possiamo già concludere annunciando il nostro voto contrario grazie grazie consigliere Biasiol non ho altre richieste di parola se non ci sono ulteriore dichiarazione di voto perché mi pare che più o meno tutti i gruppi hanno espresso il loro orientamento metterei in votazione la delibera di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 2017 ah fattori scusa devi fare dichiarazione di voto prego no era solo per alcune considerazioni no vogli dire a parte noi non credo che facciamo mai diciamo mai che nicheline brutte quelle quella non credo non credo era solo però vogli dire da questo a dire che va tutto bene direi che insomma una sana via di mezzo qualche problema ce l'abbiamo ecco quindi per esempio quando tanto per così parlare un po' con l'amico Novaco Sabino quando si dice che i nostri asili nido incassano 200.000 euro e ne spendono un milione cioè io oltre ad essere contento perché abbiamo il servizio dei nidi mi incavolerei anche un pochino perché tra gli 800.000 euro che non vengono pagati probabilmente non tutti hanno diritto di non pagarli ecco allora per dire che se noi la vogliamo sempre vedere bella l'alternativa non è Sabino per piacere dai guarda io posso non essere d'accordo su questo e allora ma no ma non sono d'accordo sul fatto che non paghino l'asilo nido cioè non mi sembra una cosa non sto bestemmiando sto dicendo che siccome abbiamo la ragionevole certezza che un sacco di gente non paga i nidi e quant'altro cavolo sarebbe meglio cercassimo di farglielo pagare dopodiché se dobbiamo dire che va bene lo stesso va bene lo stesso noi lo pensiamo diversamente dopodiché è chiaro insomma che voglio dire le strade sono quelle che sono e io l'ho detto anche diverse volte e purtroppo il comune ha colpa marginale perché tra la SMAT che prima rompe le strade per mettere le fogne poi le rompe per mettere anche i tubi dell'acqua nonostante gli abbiamo detto tutte le volte che siccome i tubi sono in eternit e si spaccano soltanto a guardarli figuriamoci se gli lavorano a fianco e poi gli fanno passare sopra i camion che naturalmente con il cassone dissestato spaccano tutto però loro si divertono prima mettono i tubi delle fogne e poi dopo spaccano di nuovo la gente queste cose non le capisce adesso vi dico un'altra cosa sulla manutenzione scusa parlo sempre di questa pianta perché mi fa ridere perché anche ieri mi hanno detto ma questa pianta sei tu che non l'hai voluta perché non è possibile hanno messo tutte le piante meno tre in una via ma cavolo ma fallo bene cioè cambi le piante di una via cambi quelle più marce ce ne sono tre che non ci sono proprio e non le cambiano a me non me ne frega niente perché parcheggio meglio con la macchina però la gente normale dice ma chi gli organizza questi lavori quindi poi non fare la distinzione tra la SMAT tra quelli che mettono la fibra tra quelli che mettono le piante cioè alla fine la gente è per quello sindaco che poi la gente si arrabbia e si lamenta poi a Nichino si vive anche bene lui non va bene a Nichino perché vuole fare il sindaco lui non va bene per quello perché se no sarebbe già andato ma come vedi si può fare anche stando da fuori quindi non ci sono problemi quindi tranquilli lui diventa poi bravo adesso quando capisce che può fare il sindaco siamo tutti a posti con l'appoggio del PD lui farà tutto quello che vuole quindi cioè non è che noi cioè noi siamo cattivi perché vogliamo vedere quello che non funziona cioè noi anche incontriamo della gente lungo la strada e sicuramente c'è chi si trova bene chi sta bene eccetera ma io pure sto bene io mia moglie vorrebbe andare a Torino io finché ho un po' di sale in zucca sto a Nicholino quindi non è detto io mi trovo benissimo però che sicuramente ci siano delle cose che fanno arrabbiare la gente è evidente quindi non vogliamo dire meno che in passato questo non lo so se è meno che in passato io devo dirti che siccome mi sono chiuso nel mio eremo bello eh nel mio eremo e quindi non so bene che cosa succeda tra prima e dopo io qualche d'uno che si lamenta lo incontro poi magari non mi dice che si stava peggio quando c'eravamo noi perché magari diciamo questo si arrabbia no invece non mi arrabbio nemmeno quindi me lo potrebbe dire tranquillamente ma no ma voglio dire no comunque la città voglio dire è in sofferenza un po' per colpa del comune un po' per colpa di tutti però questo è se noi ne vogliamo negare questo non vogliamo non vogliamo dire dopodiché è chiaro che le soluzioni non sono facili hai ragione tu quando dici che comunque sulle strade si può impazzire perché poi questi se ne fregano anche no perché poi alla fine di fatto c'è un lassismo pazzesco ma comunque per non andarlo a raccontare troppo lontano chiudo solo col mio amico Novaco quando ha trovato il problema di tutto questo problema dell'avanzo dell'amministrazione legato 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 a un gesto scellerato da parte di alcuni e da un commissario che sta otto mesi e risparmia tra virgolette sette otto milioni pizzica però potrebbe essere una soluzione per alcune cose se con otto mesi mettiamo da parte otto milioni cioè vuol dire Novaco ma chi vuoi convincere ma come non puoi spendere voglio dire lui poteva spendere tranquillamente non poteva fare le opere straordinarie come non si sta facendo adesso perché comunque più o meno si programma ma per adesso non si fa per piacere Novaco dai va bene ma Novaco stai sereno ma sì stai sereno come è successo l'altro là occhio va beh comunque noi alla fine alla fine noi voteremo contro perché ci avete convinto che voteremo contro ecco grazie grazie fattori allora visto che abbiamo recuperato in estremis la dichiarazione dei fattori possiamo porre in votazione la delibera di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 è aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione presenti 24 votanti 24 favorevoli 16 contrari 8 il consiglio approva la delibera numero 3 individuazione degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000 come abbiamo come abbiamo detto in commissione proponiamo di individuare quali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del comune tutti gli organismi attualmente in essere previsti dalla legge nel senso che non abbiamo organismi in essere che non siano previsti dalla legge non credo ci sia bisogno né di illustrazione né di troppo intervento in ogni caso chi chiede può avere la parola non vedo richiesta di intervento pertanto pongo in votazione la delibera sull'individuazione degli organismi collegiali è aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione presenti 24 votanti 24 favorevoli 24 il consiglio approva l'unanimità la delibera successiva è il documento unico di programmazione 2018 2020 su questa delibera devo annotare due errori materiali che potete riscontrare dunque quando si parla di una deliberazione in testa alla pagina di una deliberazione del consiglio comunale numero 98 in data 21 dicembre 2018 ovviamente non ci siamo ancora arrivati e quindi valetta 21 dicembre 2017 stesso errore è riportato nel preso atto che è stato approvato il bilancio di previsione 2018 2020 con deliberazione del consiglio comunale numero 99 del 21 dicembre 2018 valetto ovviamente 2017 per il resto la delibera è così come l'avete a mano ok quindi considerate che la approviamo con questi due con la correzione di questi due errori materiali ci sono richieste di parola non vedo richieste pertanto pongo in votazione il documento unico di programmazione è aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione votanti 24 presenti 24 favorevoli 24 contrari il consiglio approva resta l'ultima deliberazione che è il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2018 quella delibera che abbiamo affrontato anch'essa in commissione bilancio e che prevede un importo di 10.000 euro ci sono richieste di intervento non vedo richieste di parola pertanto pongo in votazione la deliberazione sul programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è aperta la votazione vi prego di non di non sfilare i badge perché c'è bisogno di votare l'immediata eseguibilità dichiaro chiusa la votazione presenti 24 votanti 24 favorevoli 24 il consiglio approva all'unanimità aspettate che dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità di questa deliberazione quindi sull'immediata eseguibilità è aperta la votazione mancano il sindaco sindaco e il voto dichiaro chiusa la votazione presenti 24 votanti 24 favorevoli 24 il consiglio approva all'unanimità con questo con questo abbiamo concluso il lavoro del consiglio ringrazio il collegio di revisore di conti la segreteria e vi ricordo che il prossimo il prossimo consiglio Laura non ricordo bene la data 29 maggio ed è un consiglio in cui si possono ripresentare interrogazioni in mozioni ed ordini del giorno grazie 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 grazie